Festa alla Fratellanza è un'occasione per parlare della memoria, per affrontare i tempi della memoria ma anche per creare degli anticorpi rispetto a quello che sta succedendo oggi in Europa. Quindi la cultura della memoria, la cultura che fa della conoscenza, della storia del territorio è un elemento fondamentale, trasformarlo in energie per affrontare i presenti.